Siamo arrivati al termine anche dell'anno. Come gli anni precedenti ho desiderio di portare i miei saluti a voi e a tutte le vostre famiglie. È un grande augurio di buon Natale e anche di un felice anno nuovo. Mi soffermo brevemente su quello che è accaduto quest'anno perché, come sappiamo, è stato un anno in ogni caso con delle difficoltà generali a livello di economia, ma non per questo siamo riusciti ad affrontarle, affrontarle in maniera positiva ed è la dimostrazione che anche Orange One quest'anno cresce e si rafforza sia sotto un aspetto economico e finanziario. Tutto questo però, devo dire, è grazie a voi, grazie alla dedizione che tutti noi abbiamo dato al sacrificio che è stato fatto e che state facendo, soprattutto in questi momenti di grave difficoltà economica. E di questo io vi devo dire grazie. Per concludere, ci tengo a ricordarvi che dieci anni fa è stato creato il brand Orange One, all'interno del quale avevo il desiderio di raggruppare di tutto il gruppo. Siamo cresciuti tantissimi. Oggi il logo Orange One è un luogo affermato grazie alle varie acquisizioni fatte, alla grandissima crescita che abbiamo fatto a livello economico e anche finanziario e anche alla comunicazione. Mancava un piccolo tassello e dal primo gennaio anche la società MKFT cambierà nome in Orange One Hungary. Adesso siamo un gruppo, siamo forti, siamo ancora più solidi e quindi forza Orange One! Vi auguro nuovamente tanti auguri a voi e le vostre famiglie and we are passion! Grazie a tutti!